Sì, l'avete capito bene, ma già sfuga! Ma già sfuga! Ciao a tutti ragazzi, qui parla Satyrion, questo è il mio canale, buongiorno pomeriggio, buonasera, oggi siamo qui con un nuovo appuntamento di Dragon Sun Online. Io praticamente oggi volevo fare un altro video, un video in PvP, un po' di arena, ma entrando nel gioco ho visto una cosa che mi ha fatto particolarmente babbiare, fatemi passare il termine, e ho visto che c'erano, ci sono ancora questi pacchetti qua, messaggio da Big Point, abbiamo ricevuto un ordine d'acquisto, nel tuo inventario ti vengono accreditate le seguenti risorse, tre passaggi per l'evento dell'essenze, deserto d'essenze. Mi chiedo io, visto che ovviamente i frammenti d'essenza servono anche per altri eventi, ma perché non me ne avete mandati prima questi invece di farmi sprecare i frammenti d'essenza? Ma veramente che proprio vi devo prendere, vi devo uccidere la mamma, il nipote e il figlio, vi devo prendere e strozzare proprio lezzi, marci proprio, animali, agna, non lo accetto! Abbiamo un altro pacchetto che io non posso immaginare, che cosa posso contenere? Allora, facciamo 45 giocatori, sì, facciamo anche questo, liberiamo, vediamo un po' le strunzeite, ovviamente non manca il lag, sì, ciao, grazie, rivederci, buona giornata, ok, perfetto, questi mi servono, andiamo a scoprire il secondo regalo in anticipo della Big Point, che già mi sono incazzato io per questi passaggi che non gli hanno dati prima. Allora ragazzi, io chiudo gli occhi, non voglio guardare, andiamo eh? Allora, pronti? Ok, raga, sto per aprire gli occhi eh? Aspettate che voglio... Cobro un attimo, ho già visto, no, no raga, anzi ti ti passo... AhhaAh Ma mi state prendendo per il culo, cosa dico io Mi hanno fatto buttare due pezzi del set i polsini magici e le scarpette e le ballerine perché non avevo più frammenti per andare per affrontare il berserker rosso e questi dopo che mi fanno buttare tutti i frammenti i nuclei necessari per aprire tutti questi stronzetti questi stuzzicadenti che cosa fanno? regalano sei passaggi che cavo? what the fuck danno un regalo dopo tutto questo casino sei passaggi sei massaggi shatsu da cinesi favo da papi una grazia fanno scoppiare i computer mentre fanno aggiornamenti in bot fix e patch questi mi fanno a se patch a patch mi fanno a se perché fanno così dico io quella rabbia che ti prendono per il culo però facendo vedere che non ti prendono per il culo cioè sanno sai che è una presa in giro ma te la interpugliano te la girano in modo tale che non sembra tale capito? c'è proprio una mente contorta ci lavora dietro questo gioco altro che Greg è quella che ci devo fare con questo adesso mi pulisco faccio passiamo alle cose serie grazie mille ragazzi siamo arrivati a più 200 iscritti ovviamente grazie 211 mi sembra grazie a tutti voi ovviamente anche a chi mi guarda che non è iscritto ma l'invito ovviamente a iscriversi pezzi di presi iscrivetevi ovviamente arriverà a breve lo special 200 iscritti farò una challenge molto particolare per questo oggi è tutto ragazzi ovviamente questo è giusto un piccolo video di oggi perché ho messo FIFA avevo caricato FIFA ieri solo che avevo dimenticato delle piccole cose durava 20 minuti il video l'ho messo adesso nuovo e dura 10 minuti quasi 10 minuti vi metto il link sopra qui in descrizione per andarlo a vedere e ovviamente vi invito come sempre a mettere un bel like scrivervi un commento un parere sui piccoli regali stronzi che fanno la big point e soprattutto dirmi un parere sui 3000 draghetti a disposizione su un trilione di persone che giocano a Dragon Sang grazie per il video ci vediamo al prossimo appuntamento qui è tutto da Satin ciao ragazzi sapete che ci faccio io con questi frammenti sapete che ci faccio io con questi frammenti ve li ficco tutti quanti nel cestino ragazzi nel cestino sangue della marancia manda il messaggio a suo patto non possiamo fare niente non potete fare niente noi solo kebab cipolla e patatine fritte tu cosa voleri in più anche insalata pomodori e questo alla fine è quello che succede fanno sprecare 40 frammenti per poi mandarteli gratis già passaggi ma datemi i frammenti si avete capito bene ma già sfuga ma già sfuga quando vedete che il sistema comincia a non funzionare ad avere problemi mettete il tasto off al nostro satiro tramite il telecomando dato in dotazione dotazione No!